In poco più di tre anni la Regione Toscana ha già impegnato l'86% dei fondi disponibili dal 2014 al 2020 per il programma di sviluppo rurale, il principale strumento di finanziamento comunitario per le politiche agricole regionali. Come ha spiegato l'assessore Marco Remaschi, si tratta di 861 milioni di euro sui 950 dello stanziamento complessivo distribuiti su 50 bandi e con oltre 46 mila domande presentate. Per fare il punto in vista dell'avvio della negoziazione del regolamento post-2020, la Regione ha organizzato due eventi, uno a Grosseto il 28 novembre e uno a Firenze. Prima iniziativa del 28 di novembre che faremo a Braccagni, e lì si parla di agrobiodiversità e di quelle che sono le misure ambientali che abbiamo messo in campo, che sono misure che vanno nel senso di come la Toscana pensa all'agricoltura, misure rispettose dell'ambiente, delle produzioni di qualità, della difesa del suolo e anche delle caratteristiche economiche e sociali del nostro territorio. L'evento fiorentino, incentrato sulla qualità del cibo, si terrà il primo dicembre nell'ambito di Food & Wine. L'evento fiorentino, incentrato sulla qualità del cibo, si terrà il primo dicembre nell'ambito di un'ambito 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 di un'ambito. Grazie.